Buongiorno a tutti, bentrovati alla rubrica domanda risponde. Oggi parleremo di un argomento molto di attualità, le domande GPS 2024-2026, tutto pronto per la presentazione dell'istanza. Tra la fine di marzo e la prima decade di aprile ci sarà la procedura di presentazione della domanda per le GPS, per le gradatorie provinciali, per le supplenze. Veniamo a rispondere a alcune domande che ci avete posto sull'argomento. Dove si compila la domanda e quali sono le sezioni da compilare? Esiste un ordine di compilazione delle sezioni? Allora, per la compilazione della domanda GPS 2024-2026 c'è una piattaforma apposita denominata gradatorie provinciali ed istituto per le supplenze 2024-2025-2026, quindi per un biegno. L'accesso a tale piattaforma avverrà tramite SPID dal sito del Ministero dell'Istituzione del Merito. Sarà preparato un banner dedicato a questa procedura. Le sezioni da compilare sarebbero otto, ma solo due sono quelle obbligatorie. Esiste un ordine obbligatorio di compilazione, in particolare deve essere prioritariamente compilata la sezione scelta delle gradatorie di interesse, fascia e titolo di accesso, in base alla quale l'applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Attenzione perché tabelle di valutazione differenti pretendono compilazioni distinte, cioè la replica anche degli stessi titoli per tabelle di valutazione differenti. Chi era già incluso nelle gradatorie del precedente biegno o negli elenchi aggiuntivi del 23-24 troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo ai titoli e ai servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione di alcune specifiche sezioni di dichiarazione. Per esempio si dovrà necessariamente ricompilare la sezione delle preferenze. Servizi prestati nelle scuole statali si possono importare automaticamente nella compilazione della domanda oppure si devono caricare manualmente ricordandosi tutti i dati da inserire. Ebbene i servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal sistema informativo dell'istruzione saranno già presenti nell'istanza. Devono essere selezionati e completati a cura dell'interessato. Non saranno invece presenti i servizi di altre tipologie di supprenza. Per esempio quelle delle scuole paritarie andranno inserite manualmente. domanda numero 3. Il servizio contemporaneamente svolto su due classi di concorso mi dà diritto al caricamento del punteggio per intero per entrambe le classi di concorso? Sì, il servizio contemporaneamente svolto su due classi di concorso dà diritto al caricamento del punteggio specifico in entrambe le classi di concorso. E come a specifico invece, ovvero il 50% del punteggio, su tutte le altre classi di concorso per cui si ha diritto di accesso. Speriamo che le risposte alle domande che ci avete posto sulle GPS siano utili ai nostri telespettatori. seguiteci nei nostri canali social Facebook e YouTube dove andranno in onda delle dirette interessantissime anche sull'argomento GPS. Seguiteci anche sul nostro sito www.tecnica della scuola.it perché daremo le notizie proprio su questo aggiornamento ma anche su tanto altro ancora. Arrivederci e alla prossima!